Buongiorno Daido, allora Elon Musk aveva detto che avrebbe reso open source l'algoritmo che governa il comportamento di Twitter, cioè di X, l'ha fatto, l'algoritmo è open source su GitHub, e ora, la settimana scorsa aveva detto che avrebbe reso open source tutto grok, che non è uno snack al formaggio ma è il chatbot di XAI, l'altra startup che ha Elon Musk che riguarda appunto l'open source, l'ha fatto, ha fatto anche questo. L'hai fatto, brutto figlio di puttana. Beh, ha fatto anche questo, adesso grok sta su GitHub, tra l'altro è su licenza Apache 2.0, quindi è davvero open source, è più open degli altri grandi large language model che sono open source tipo Lama 2 di Meta, che in realtà sono più open search, non so bene qual è la definizione accademica di questa roba qua, ma in pratica sono open fin tanto che non ci fai del vero profitto, del vero business sopra. Puoi consultare il codice dei modelli, vedere come sono, però ecco lo sfruttamento commerciale lo devi pagare. Grok invece no, è totalmente libero, il problema è che però non sono open, non sono stati rilasciati i dataset, cioè non sappiamo con cosa è stato allenato grok, quindi c'è il codice, lo possiamo usare, lo possiamo scaricare, lo possiamo testare. Ora, adesso, tra virgolette, perché in realtà per far funzionare un large language model delle dimensioni di grok servono risorse hardware importanti, delle GPU dedicate, un rack probabilmente di GPU dedicate, cioè non è una cosa che possiamo far girare tranquillamente sui PC. Ecco, non è quello il suo intento, però se volete spulciare il codice di grok lo potete fare. Questo solo per dire che, sì, abbiamo grok open source, la promessa di Elon Musk è stata mantenuta, posto che a qualcuno poi possa davvero interessare, perché le prestazioni, le performance di grok non si sono rivelate poi così interessanti. Ecco, però ce l'abbiamo lì, sta subito. E adesso un po' di news della giornata. È lunedì 18 marzo, una delle notizie più frizzanti della scorsa settimana è il possibile potenziale futuro ban totale a TikTok negli Stati Uniti. Perché? Perché la Casa Bianca ha fatto passare un bill, una proposta di legge, che si chiama Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act. Giuro, nome reale di questa proposta. Cioè, in pratica, significa proteggere gli americani dalle applicazioni controllate da nemici extra-territori statunitensi, che significa cercare di proteggere i cittadini americani da queste potenze straniere che attraverso le loro applicazioni potrebbero controllare le vite sociale pubblica americana. Qual è questo stato straniero che possiede un'applicazione in grado di fare questo? È uno solo, si chiama Cina e l'applicazione si chiama TikTok. Infatti, potevano chiamarlo TikTok Act o TikTok Bang, era lo stesso, perché l'unica applicazione che rientra in questi criteri è TikTok. E insomma, questa potrebbe forzare proprio ByteDance, che è la società cinese che possiede TikTok, a venderlo. Perché? Perché si parla di, appunto, Foreign Adversary Controlled, quindi solo applicazioni che sono controllate da potenze straniere, ok? E quindi, se TikTok fosse posseduto da un'azienda americana, statunitense, questa legge non si applicherebbe. Si applica solo nel caso in cui TikTok sia posseduto, guarda caso, da un'azienda straniera. E con questa legge, tutto quello che sarà proibito a TikTok sarà distribuire, mantenere o aggiornare l'app. Quindi proprio anche gli aggiornamenti all'app saranno impediti, non sarà possibile venderla o distribuirla attraverso gli app store. Quindi sarà praticamente bloccata. Naturalmente, quindi dicevamo, se TikTok fosse posseduto da un'azienda americana, questa roba non si applicherebbe. La naturale conclusione sarebbe che, se TikTok vuole continuare a esistere su territorio americano, ByteDance dovrebbe venderlo a una compagnia americana. Questa legge è passata a larga maggioranza e anche abbastanza in fretta. Ecco, ci sono stati 352 voti a favore nella casa che c'è, appunto, 435 membri. Quindi 352 su 435 e, insomma, equalmente distribuiti tra repubblicani e democratici. Adesso questa legge va in Senato, che dovrà discuterla e, insomma, si pensa che avrà qualche difficoltà a passare in Senato. Perché? Perché c'è naturalmente la libertà di parola, quindi il primo emendamento, come avversario più grande di questa proposta di legge, ma poi anche un discorso di tipo economico, perché ci sono molti, insomma, c'è un certo numero di cittadini americani che fanno soldi con questa app e quindi togliere questa app ai cittadini vorrebbe dire, praticamente, togliergli il lavoro, una cosa che in territorio americano non è verosamente vista bene. E inoltre, poi, ci sono le applicazioni pratiche, cioè come questa legge poi possa essere davvero messa in pratica. Anche lì, questioni tecniche proprio. Insomma, vedremo. Però, intanto, è interessante il fatto che quando, diciamo, il chiacchiericcio, il discorso pubblico attorno a TikTok e ai suoi pericoli si era un po' affievolito, ecco che immediatamente è arrivata anche abbastanza all'improvviso questo act, questa proposta, che è passata anche molto velocemente e adesso si va a discutere in Senato. E c'è la Electronic Frontier Foundation, EFF, che negli Stati Uniti è molto attiva nell'advocacy, a parlare appunto di libertà, dell'uso di internet, delle applicazioni, dei mezzi digitali, ecco, si è subito espressa un po' contro questa legge. E ha scritto un post sul suo sito che si intitola Le 5 domande da fare prima di sostenere il TikTok ban, lo chiamano direttamente così. E vi leggo un po' queste 5 domande. La prima è questa, la legge contro TikTok riguarda la privacy o i contenuti di TikTok? Cioè, ci stiamo preoccupando della privacy e della violazione proprio dei dati personali dei cittadini americani o dei contenuti che TikTok fa, appunto, passare sulla sua piattaforma letti, poi visti dai cittadini americani? Quello che dicono i legislatori, da quello, dalla dichiarazione, insomma, presi ai legislatori, sembra apparente che quello su cui ci si concentra davvero sono i contenuti di propaganda, diciamo, che secondo questi legislatori, ecco, passerebbero continuamente su TikTok controllati dal governo cinese. Infatti vi leggo alcune dichiarazioni di portavoce. Si parla di, certo, collezionare grandi quantità di dati sugli americani, condurre campagne di spionaggio, ma anche, ecco, fare circolare disinformazione e propaganda sul pubblico americano. Poi che TikTok promuova drug parafernalia, cioè sarebbero i parafernalia delle droghe? Ora, parafernalia è una parola che ho dovuto cercare perché non la conoscevo. Praticamente pare che in latino la parola parafernalia stesse a indicare i beni di proprietà della moglie non rientranti nella dote. Questi sarebbero i parafernalia. Quindi, parafernalia delle droghe, quindi le robe, le cose, le droghe, le cose, insomma, una formula un po' strana, ecco, per riferirsi alle droghe. Infatti TikTok promuoverebbe le droghe. Poi la oversessualizzazione dei teenager, questo lo farebbe solo TikTok, solo TikTok fa oversessualizzazione dei teenager, e poi contenuti costanti a proposito dell'idea del suicidio, apparentemente. Sono molto preoccupati di questo. Seconda domanda, se il bill di TikTok, la legge contro TikTok, riguarda la privacy, perché non ci sono altre leggi più importanti che riguardano, appunto, la privacy in discussione alla Casa Bianca, infatti, insomma, se vogliamo prendere sul serio che la preoccupazione della Casa Bianca è proprio sulla privacy dei propri cittadini, ecco, non ci sono stati negli ultimi anni evidenze, insomma, che questo sia un tema particolarmente sentito, particolarmente discusso. All'altra domanda, se si parla di un band di TikTok a proposito di contenuti che TikTok stesso veicola, perché questo non violerebbe il primo emendamento? Sapete che il primo emendamento riguarda proprio la libertà di parola, no? La libertà di espressione. Come facciamo a impedire a contenuti di girare su una piattaforma senza violare questo primo emendamento? Infatti, insomma, l'unico modo per cercare di bypassare questa roba è parlare di rischio alla sicurezza nazionale, però anche questo è difficile da giustificare, no? Quindi dovrebbero riuscire in qualche modo a far passare l'idea in Senato che questa applicazione porti davvero un rischio alla sicurezza nazionale. Non è così facile. La quarta domanda riguarda un po' il mercato e dice ma questa legge su TikTok è un ban o è qualcos'altro? Questo riguarda un po' il liberismo che c'è molto presente nella cultura americana e dice che questo, alcuni pensano che questo non sia proprio un ban perché se ByteDance vendesse TikTok questo non si richiederebbe più. Quindi in realtà non è proprio un ban a TikTok ma è un ban a TikTok posseduto da ByteDance. Ora pare evidente che la preoccupazione vera non è proprio TikTok ma è il fatto che ci sia ByteDance dietro e il congresso sta bene che vendere una piattaforma in social media e fargli cambiare proprietà cambierebbe probabilmente anche i contenuti editoriali, la politica sui contenuti editoriali come è successo esattamente a Twitter. Venduto a Elon Musk le politiche di controllo dei contenuti sono cambiate parecchio e quindi probabilmente il congresso spera anche in questo tipo di transizione per TikTok. Quindi la preoccupazione è i contenuti veicolati dalla propaganda cinese come la proprietaria di TikTok. L'ultima domanda è ma per quanto riguarda invece la circolazione libera delle informazioni gli Stati Uniti supportano la libera circolazione di informazioni come fondamentale principio democratico oppure no? Perché infatti molte volte gli Stati Uniti ci sono espressi quando altri stati in giro per il mondo hanno attuato provvedimenti simili. Per esempio in Nigeria nel 2021 il governo nigeriano aveva bloccato Twitter e gli Stati Uniti si erano espressi condannando questa decisione che impediva ai cittadini nigeriani di informarsi e di far circolare liberamente le proprie idee e le proprie opinioni. Ecco, ora stanno facendo la stessa cosa negli Stati Uniti. Quindi come conciliamo queste due cose? Come paladini della libertà di espressione del mondo e della libera circolazione di informazioni però poi blocchiamo un'app nel suolo americano perché appunto permette libera tra virgolette circolazione di informazioni, posto che sia libera la circolazione di informazioni su TikTok. Comunque, queste sono le cinque domande di EFF. Naturalmente vi consiglio di andare a leggere l'articolo per intero si intitola 5 questions to ask before backing the TikTok ban che sta su EFF, Electronic Frontier Foundation. E un altro articolo interessante che vi consiglio di leggere e poi chiudiamo questa vicenda si trova su The Verge, si intitola How the house quietly revived the TikTok ban before most of us noticed. Questo è il titolo dell'articolo, lo trovate su The Verge. C'è un po' anche una storia delle proposte sul ban di TikTok abbastanza comprehensive, non so come dire in italiano, abbastanza completa ecco, con un po' di storia, anche un po' di interviste, un po' di dichiarazioni di personaggi coinvolti. Io vi dico soltanto una cosa che sta all'inizio dell'articolo che ho trovato molto frizzantina e cioè che subito dopo aver saputo dell'approvazione di questo act che ora andrà discusso in Senato però ByteDance attraverso TikTok ha mandato una push notification in app ai suoi utenti negli Stati Uniti chiedendo di contattare i propri rappresentanti del congresso appunto per fare pressioni perché altrimenti qua si rischia di sparire completamente di far sparire proprio TikTok e che è successo? Che membri dello staff alla Casa Bianca hanno detto di aver ricevuto delle telefonate da studenti da bambini in lacrime con anche il chiacchiericcio della classe dietro di loro che chiedevano appunto di smettere di dargli il loro TikTok chiedevano poi, facevano domande perché non avevano idea di cosa sta succedendo quindi facevano delle domande tipo cos'è il congresso? che cos'è un congressman? cosa sta succedendo a TikTok? posso avere indietro il mio TikTok? cioè ByteDance l'ha fatta passare come un queste persone cattive vi stanno per togliere TikTok e quindi bambini ma bambini si intende proprio bambini di 9 anni, 10 anni questa è la... che non potrebbero probabilmente usarlo però si parla di questo tipo di pubblico a scuola che chiamano il congresso chiedendo di non far passare questa legge non sapendo cosa sta succedendo ecco questa roba qua che ByteDance ha pensato fosse una grande idea perché attiviamo il nostro pubblico per far sentire la voce che gli americani non vogliono che TikTok sia bloccato questa roba qua in realtà gli si è ritorta contro perché a questo punto un portavoce del congresso naturalmente ha potuto dire beh, vedete, questo è esattamente il tipo di influenza sulla... sugli cittadini americani che una potenza straniera può esercitare usando TikTok usando un'app come questa e questa roba qua non vogliamo che succeda magari in momenti di ecco, destabilitazione politica e quindi è proprio... abbiamo proprio ragione noi si tratta di sicurezza nazionale questa potrebbe essere un po' una mossa non particolarmente intelligente da parte di ByteDance non hanno valutato proprio le conseguenze e potrebbe ritogliersegli contro comunque il resto dell'articolo è molto completo c'è poi tutta una storia appunto della discussione intorno al ban di TikTok e sapete che la discussione c'è anche in Europa però insomma qui si parla proprio di bloccare completamente TikTok in tutto il suono americano adesso vedremo nei prossimi giorni come andrà avanti la discussione in Senato e poi evidentemente ne riparleremo ma anche nella seconda notizia di oggi c'è un certo friccicore perché un'azienda che si occupa di cyber security che si chiama Netcraft si è accorta nei suoi... ecco, nelle analisi che fa del traffico web si è accorta che Cloudflare ha perso improvvisamente circa il 20% del totale dei suoi domini sapete che Cloudflare offre anche il servizio di registrazione di domini tra i suoi vari servizi ecco questo calo improvviso e incredibile di domini è dovuto al fatto che una certa quantità di domini registrati o quantomeno controllati da Freenom cioè domini .tk .cf e .gq sono stati chiusi tolti non è più possibile registrarli e non è più possibile neanche controllarli rinnovarli cioè sono stati spenti tra l'altro questi sono il 98,7% del totale dei domini controllati da Freenom quindi praticamente Freenom ha smesso di fare da registrare i domini perché di fatto ecco i domini tk cf e gq forse li avete sentiti perché diciamo sono domini molto facili da registrare e sono spesso usati in campagna ecco malevole su internet sono dei domini di primo livello che dovrebbero essere associati ai governi di Tokelau TK Tokelau che sarebbe tipo un'isola nel Pacifico a largo della Nuova Zelanda dovrebbe essere controllata dalla Nuova Zelanda poi la CF che sarebbe la Repubblica Centroafricana e poi GQ che sarebbe la Guinea Equatoriale ecco naturalmente non sono mai stati collegati a questi stati ma usati esattamente peraltro ed è proprio questa la ragione che ha portato alla loro dismissione perché c'era una causa intentata da Meta contro Freenom proprio sull'abuso di questi domini naturalmente Freenom inizialmente non aveva accettato di chiudere completamente questi domini però nel marzo 2023 aveva deciso di mettere in pausa di sospendere la registrazione di nuovi domini con queste estensioni poi dopo un anno quindi a febbraio il 12 febbraio del 2024 ha annunciato di voler smettere ecco con questo business di chiudere il suo business di registrazione dei domini e di aver raggiunto un accordo monetario in qualche modo con Meta quindi si tratta praticamente di aver in qualche modo riconosciuto le proprie responsabilità con Meta a livello privato e quindi di aver così chiuso la causa che non andrà avanti però c'è stato questo accordo che apparentemente li ha portati a chiudere il loro business cosa che si è riflessa poi su Cloudflare che ha perso quindi il 22% proprio totale dei domini perché tutte queste estensioni sono state tolte in realtà alcuni utenti hanno riferito di aver potuto continuare a controllare i domini con queste estensioni facendoli marcare come paid domains quindi come domini pagati proprio da Cloudflare quindi passandoli sotto i paid domains apparentemente da una discussione su Reddit è possibile tenerli in vita insomma tenerli su però la stragrande maggioranza sono chiusi sono stati spenti e per capire quando in realtà questo ban questa cessazione è stata davvero resa esecutiva Netcraft ha guardato quando i certificati SSL hanno smesso di essere staccati per questi domini perché i certificati delle più grandi certificate authorities che sono Google e Let's Encrypt si basano proprio sul dominio quindi fanno un controllo un ping HTTP al dominio su cui il certificato deve essere staccato se il dominio non risponde il certificato non può essere valido e quindi controllando questo traffico di rete si è visto quando esattamente questi certificati hanno smesso di essere staccati per quei domini ed è quello che ha notificato che da quella data la data è tra l'8 e il 10 febbraio quindi un paio di giorni prima la dichiarazione pubblica di Freenom del 12 febbraio quindi ecco molte persone sono un attimo state prese di sorpresa perché senza alcuna comunicazione i loro domini hanno smesso di essere funzionanti hanno smesso di poterle registrare di nuovo e quindi c'è una cessazione totale di questi domini i domini .tk ecco c'è un piccolo numero di domini si vede anche da questo grafico questo è il grafico appunto dei certificati SSL staccati per i domini .tk vedete che in realtà c'è una certa vita dopo il 12 febbraio di qualche dominio .tk ancora funzionante con certificati ancora staccati e probabilmente qui si sta parlando dei domini quei paid domains a cui ci si riferiva prima in Cloudflare probabilmente qualche utente è riuscito a far rivivere questi domini su Cloudflare attraverso i paid domains però non sappiamo come andrà avanti questa storia adesso siamo siamo al 18 di marzo e in realtà questo articolo è aggiornato al 20 febbraio quindi dobbiamo aspettare il prossimo giro di analisi di netcraft per capire se i domini sono spariti completamente o se in qualche modo rivivranno di certo non su Freenom perché loro hanno smesso di fare questo business però su Cloudflare non ci sono più ed questa è una notizia frizzantina mi pareva interessante da far circolare vi lascio un link al volo il primo si intitola Why Facebook doesn't use git ed è un articolo di analisi per capire come mai appunto Facebook non usa git non sono gli unici ma Facebook ha sviluppato un modo interessante per lavorare con il controllo di versione del codice sopra Mercurial con alcuni tool custom con alcune procedure custom quindi se volete vedere un po' come si può lavorare nel mondo informatico di oggi senza git che pare strano eppure c'è gente che lo fa e non gente che ha una piccola codebase no no immaginate l'enorme monorepo di Facebook ecco si viene gestito senza git ci sono alcune ragioni molto pratiche per fare per adottare questa scelta soprattutto nel caso di grosse codebase e quindi questo articolo vi fa un po' capire quali sono queste ragioni e come si può ecco lavorare in questo modo con Mercurial e come lo fanno in Facebook quindi vi ripeto Why Facebook doesn't use git poi naturalmente vi lascio il link l'altro link molto semplicemente è il paper di Stable Diffusion ne avevamo parlato di Stable Diffusion versione 3 siccome poi qualche giorno fa avevano anche pubblicato il paper di ricerca da cui appunto hanno ricavato Stable Diffusion se vi interessa capire ecco vedere intanto qualche altra bella immaginetta generata dai ricercatori di Stable Diffusion ma anche capire come Stable Diffusion proprio funziona come lavora certo magari il paper in sé che non è questo questo che state vedendo è il post che parla del paper poi il paper in realtà è linkato in questo post però già qui c'è un po' di analisi un po' di semplificazioni ecco che vi possono fare un attimo capire come funziona un LM come Stable Diffusion ecco nella generazione delle immagini e anche un pochino di prompt engineering se vi interessa potete vedere come i ricercatori di Stable Diffusion scrivono i prompt per generare le immagini che state vedendo qua quindi immagini con questa qualità quindi se vi interessa approfondire ancora di più Stable Diffusion ecco Stable Diffusion 3 Research Paper lo trovate naturalmente sul blog di Stability AI e io vi lascio il link in descrizione ho finito qui grazie per avermi seguito anche oggi questa settimana ci sentiremo pochissimo perché sarò alla CubeCon domani partirò per Parigi per andare alla CubeCon quindi farò fatica a fare nuovi video però magari qualche contenuto boh qualche cosa che sbatterò su YouTube o magari presa anche in diretta alla CubeCon chi ne so non prometto niente perché poi sarò anche sommerso da una valanga di persone di cose di fatte di feste e quindi non so cosa riuscirò a fare però ecco se qualcuno è alla CubeCon però ci incontriamo lì magari ci sbevazziamo qualcosa insieme grazie per avermi seguito anche oggi ci vediamo alla prossima ciao